Da anni parliamo di intermodalità e di sostenibilità e questo è un esempio concreto dell'impegno che abbiamo per lavorare in quella direzione. Con anche lo scooter sharing abbiamo la possibilità di integrare ovviamente con una mobilità elettrica quindi in linea con gli obiettivi di sostenibilità che il territorio e anche l'azienda si è data per i prossimi anni e anche di lavorare nell'ottica dell'intermodalità quindi con il trasporto pubblico ferroviario stradale e anche con il car sharing che abbiamo imparato a conoscere in questi anni quindi a questo punto integrato anche ci saranno le moto. Ci sono anzi perché da oggi ci sono tutte le moto. Dove si troveranno? Dove potete trovare i piazzoli? Sì ci sono le posizioni, la cosa importante da ricordare è che riguarda solo la città e quindi per il momento non è fuori dalla città come invece è per le auto corrente e per il resto sono mezzi a suo libero come un sistema corrente. Credo che come è già stato indicato la cosa fondamentale e importante per noi è che si può lavorare, infatti si chiamano anche i mezzi concorrenti e quindi rientrano insieme alle auto nel sistema di sharing mobility che abbiamo attivato. Diciamo che a noi risulta di essere gli unici operatori di sharing che in un'unica app hanno sia l'automobile in sharing che lo scooter stesso in sharing e quindi il grosso vantaggio è un'unica app, un'unica registrazione, due veicoli e si sceglie il veicolo di maggior interesse in quel determinato momento. Il circolare è nel territorio del Comune? Allora, la corsa deve cominciare e finire all'interno del Comune di Bologna, quindi durante la corsa si può andare anche al di fuori del Comune stesso di Bologna, l'importante è che si rientri nel territorio del Comune di Bologna per chiudere la corsa. Grazie. Grazie mille. Le regole per la riconsegna, visto che ci sono polemiche tipo a Milano dove c'è molto sharing, ci sono polemiche perché vengono abbandonati sui marciapiedi, qui quali sono le regole? Allora, qui abbiamo adottato due sistemi, il primo è per una sosta corretta e cioè la corsa non potrà chiudere sui termini teatro se non dopo aver messo sul cavalletto lo scooter, quindi è escluso l'abbandono appoggiandolo a un palazzo piuttosto che ad altro elemento e inoltre sarà obbligatorio scattare una foto già previsto nella modalità di chiusura dell'app per poter dimostrare appunto di aver parcheggiato lo scooter in modalità corretta nel rispetto del codice della strada. Quindi negli spazi previsti per gli scooter e per le bote. Esatto. Grazie. Grazie. Anni fa sembrano un'era geologica, è cambiato tantissimo, oggi l'elettrico è sicuramente qualcosa di estremamente più metabolizzato, quando siamo partiti con il CAR è stata una scelta un po' antesignale rispetto a quello che poi è avvenuto. Ricordo che siamo partiti nell'ottobre del 2018, vuol dire che abbiamo cominciato tutta la fase di studio già nel 2016 e in quel momento anche i modelli di auto elettriche erano poi così di giusto. Abbiamo prestato la crisi pandemica, quindi con una mobilità ridottissima per un forte periodo del 2020 e del 2021, adesso di sicuro lo sharing è qualcosa che è estremamente apprezzato dal tempo, è fondato per tutti, in questi 4 anni abbiamo percorso oltre 10 milioni di chilometri e non mi nascondo che ieri ho riletto, ho ricontato gli zeri e ne averne contato uno in più e abbiamo percorso al punto 10 milioni di chilometri. La scelta è quella di integrare sempre più i mezzi in sharing ci ha portato ad aggiungere lo scooter elettrico e il grosso vantaggio è quello di poter gestire tutti i mezzi con un'unica app, quindi ad oggi un utente iscritto a corrente da oggi pomeriggio potrà visualizzare tutti i veicoli elettrici, car e scooter, quindi ovviamente poter fare anche qualche scelta diversa ed eventualmente integrare sempre più le sue modalità di viaggio con il trasporto pubblico urbano. Aggiungo anche la possibilità di avere una maggiore possibilità di utilizzare l'auto che a seconda delle necessità possa essere di maggior interesse, quindi utilizzare anche lo scooter magari per poter raggiungere un'auto più carica. La modalità è semplice come quella delle auto, cioè i nostri intenti non fanno far null'altro che guidare. Tramite app potranno visualizzare lo scooter più vicino e prenotarlo, avvicinarsi allo scooter e sbloccarlo. Su questo tema mi fa piacere segnalare una cosa importante, cioè la nostra scelta è ricaduta su uno scooter progettato per lo sharing e quindi anche alcuni fenomeni che talvolta sono capitati in altri sistemi di sharing saranno estremamente più complicati con lo scooter. Per poter cominciare, ma soprattutto per poter chiudere una cosa sarà necessario riposizionare lo scooter sul cavalletto e quindi sarà estremamente difficile, estremamente impossibile assistere a fenomeni di abbandono dello scooter in posizioni non corrette. E in più è prevista nella procedura l'obbligo di scattare una foto per appunto mostrare al momento della sosta il rispetto del codice della strada. Gli scooter sono simplici, come detto partiamo oggi nella città di Bologna e copriremo quasi integralmente il territorio del comune di Bologna. Lo scooter ha un'autonomia di 80 km, quindi in linea teorica nel limite dell'autonomia sarà possibile anche uscire un po' dal territorio del comune di Bologna, l'importante è che poi si rientri per poter chiudere la costa. La nostra scelta è stata quella di far guidare questi scooter esclusivamente ai maggiorenni, con idoneo documento ovviamente di guida, quindi patente A, patente B, ma comunque ai maggiorenni. Sarà possibile trasportare un passeggero e all'interno del voletto sono presenti due caschi di due diverse misure, M e M e L, per andare in conto quanto più possibile a tutte le esigenze e per massimizzare le procedure di igiene all'interno del voletto verranno trovate anche delle fischie monouso che gli intenti potranno eventualmente indossare prima di utilizzare il casco. Il casco a termine della costa va riposto, la costa non si riesce a chiudere se lo scazza, il casco non venisse correttamente riposto nel paulo stesso. Questo per confermarvi una possibilità di utilizzo davvero semplice. Lato tariffe confermiamo un altro elemento importante, quello appunto della mobilità integrata sulla quale crediamo moltissimo e quindi riserviamo delle tariffe particolarmente scontate di quasi il 30% agli utenti abbonati al trasporto pubblico locale. Sono sentiti neanche l'inferzione pubblicitaria, ma la ritengo assolutamente positiva, nell'ambito di un'iniziativa e di un finanziamento ottenuto dal Comune di Bologna e dall'Agenzia della Mobilità SRM sono disponibili per i residenti a Bologna non ancora iscritti a corrente o iscritti dal 21 novembre 22 in poi, un voucher particolarmente conveniente ricaricando con soli 20 euro vengono accreditati 200 euro di bologna. Grazie a tutti per questo invito, molto importante per noi, entrare in una città nuova, Bologna, è importante e con un'azienda che condivide molti valori per quello che ho sentito esprimere dalle persone che hanno collaborato in questo progetto. L'essere visionari sicuramente è questo, mi ricordo che io dicevo prima una visione sull'elettrico che partiva prima, insomma, l'attuale boom dell'elettrico. Noi abbiamo messo pure un'esperienza simile e queste esperienze le vediamo oggi su questo veicolo. Pensato per lo sharing sicuramente, dal nostro punto di vista un veicolo che è pensato che lo sharing deve avere due caratteristiche ma ne aggiungerei una terza. La prima deve essere assolutamente al gusto e sicuro. l'utilizzatore dello sharing non è detto che abbia una competenza elevata di conduzione di veicoli a due giorni. È un automobilista o un fruitore di veicoli pubblici che a un certo punto decide di prendere un veicolo perché ne riconosce l'utilità. Insieme alla sicurezza ci deve essere sicuramente anche la semplicità, la semplicità di utilizzo proprio perché talvolta abbiamo degli utenti che non sono così esperti nella guida e quindi abbiamo fatto di tutto per che il veicolo sia facile anche a chi magari almeno quando è arrivato in veicolo. Facile per tutti i contesti cittadini. Quindi le ruote grandi, le ruote rassetti ci sono un alleato importante per affrontare e con molta sicurezza i pavè, i binari, insomma tutte le situazioni di utilizzo urbano che ci possono essere. Facile deve essere anche leggero quindi un veicolo che sia utilizzabile da qualsiasi tipo di utente, maturo, il giovane, la signora, il signore. Quindi insomma questo abbiamo cercato di fare. Poi la leggerezza delle reti è assolutamente un contenuto molto importante. Dobbiamo consumare poca batteria, poi potremmo anche le tematiche dell'affidabilità. Queste due caratteristiche rendono i miei più divertenti che è la terza caratteristica perché anche quando ero nuovo in città con un veicolo che non è mio, se riesco a divertirmi sicuramente lo utilizzerò nuovamente con maggiore probabilità.